I partiti dopo la pausa pranzo, 19 giugno 2020, davanti alla chiesa Santa Maria Assunta di Filotrano. In questo quinto video usciremo da Filotrano, discesa fino a passatempo di Oslo, ovviamente sempre con la mia Bianchi oltre XR4. E ora usciamo da Filotrano, verso Osimo, cambio batteria e si riparte. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Grazie a tutti. 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 Sì Grazie a tutti. 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 Noi c'entro, c'entriamo domani. Noi c'entro. Eh no, troppo neri qui. Verso casa, subito. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video sulle strade marchigiane di giugno sono terminati, ciao alla prossima!